Laura Freddi non vada a spese per creare un party da favola per la sua piccola principessa, Ginevra. Mette in scena una festa di compleanno straordinaria per il suo sesto anniversario, il tutto a tema Barbie. Nella cornice romana del Monteverde Club si affida alla maestria di Spazio Lattementa, di Gwendalina Giorgi, Sonia Gioia, Luca Fubelli e Rosa per l'allestimento e gli ospiti, mentre per la torta mozzafiato opta per il rinomato dessert shop Cavalletti. Attraverso i suoi canali social, la 51enne condivide entusiasticamente storie e video dell'evento impeccabilmente organizzato. Ogni dettaglio è curato con precisione. Un angolo dedicato al trucco, una passerella per una sfilata glamour, tavoli sontuosamente imbanditi con fiori freschi e persino uno spazio foto dove gli ospiti possono farsi immortalare all'interno dell'iconica scatola delle celebri bambole mattel. Non manca nemmeno un guardaroba, completo di abiti, cappelli e sciarpi alla moda, permettendo a tutti di trasformarsi e assomigliare a vere Barbie. Crea il tuo outfit e benvenuti alla sfilata per il party di Ginevra sono gli inviti creativi. La famosa showgirl esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo della festa di compleanno interamente a tema Barbie. È andata proprio come lei desiderava, ancora auguri, piccola mia, sei già grande, sottolinea la Freddy. Alla fine della festa arriva il momento magico di spegnere le candeline. Ginevra posa con la sua mamma e il papà Leonardo D'Amico, fisioterapista della Nazionale Italiana di Beach Volley. Laura, che ha atteso a lungo per diventare madre, ha finalmente realizzato il suo sogno nel 2016, superando svariate difficoltà, e un doloroso aborto avvenuto durante il suo matrimonio con l'imprenditore Claudio Casavecchia. Recentemente, in un'intervista a Verissimo, ha condiviso il suo amore e il desiderio profondo per la figlia, sottolineando la gioia e la sfida di diventare madre a un'età più matura. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.